Johnny Gargano lascerà la WWE? Beh, è la domanda che molti tifosi di NXT si stanno facendo dopo aver letto le notizie che girano sul web. Ora proviamo a fare un po' di ordine su quello che sappiamo o crediamo di sapere. Il contratto di Gargano con la federazione, qui uso le informazioni raggruppate dal Wrestling Observer, scade il 3 di dicembre. Lui ha firmato un'estensione temporanea di una settimana, il che gli permetterà di partecipare a Wargames. Un evento nel quale dovrebbe esserci, almeno dai semi, dalle avvisaglie che stiamo vedendo, una battaglia tra la New Generation, la nuova generazione, e la Old School, quella vecchia, i veterani. E Gargano potrebbe far parte di uno degli schieramenti, o comunque essere coinvolto da questa sfida, chiamiamola generazionale, se mai dovesse arrivare a compimento. Sempre stando alla fonte che vi propongo, la WWE ha offerto un contratto anche abbastanza interessante, e ora lui sta vagliando le ipotesi connesse al suo futuro. Bisogna capire quali sono le sue ambizioni, quali sono le sue necessità economiche, come vuole impostare il futuro della sua famiglia, visto che, insomma, bisogna pensare anche a questo. Quindi, nelle considerazioni di Dave Meltzer, c'è una sorta di attendismo. Anche lui non è sicuro. Insomma, scrive Adam Cole, si sapeva, una volta che il contratto è giunto al termine, che al 99% se ne sarebbe andato. Johnny Gargano, invece, no. Su Johnny Gargano è diverso. C'è un'altra storia, è un'altra persona, ha altre necessità, altri amici, altri giri, quindi potrebbe anche rimanere. Per questo, io direi di sposare la linea che vi ho proposto, stiamo a vedere, e sicuramente mi spiacerebbe perderlo. Perché Gargano si è reinventato. Lui, col The Way, anche se ora hanno perso i pezzi, e col matrimonio tra Indy Artwell e Dexter Lumis, molte delle storie si sono concluse. Ma comunque lui è uscito da quella situazione in cui tanti, troppi main eventer erano l'uno e il clone dell'altro. E ha sviluppato una parte, chiamiamola personaggistica, che starebbe bene, magari con i dovuti assestamenti, anche nei roster principali. Di certo c'è un merito. Ha fatto da Chioccia ad Austin Theory, che ora, dopo il draft, si sta muovendo bene a Raw. Quindi, gli ha trasmesso sicuramente un po' di esperienza, e tante delle cose che ha imparato a scoprire e a conoscere durante la sua lunga carriera. Però io lo vorrei ancora in WWE, mi sbilancio, spero che le parti giungano ad un accordo. Nel frattempo stiamo alla finestra, e se ci saranno novità, vi informerò appena giungeranno alle mie orecchie.